Buonasera a tutti, mi chiamo Matteo, ho collaborato con la d'Alessandro Scouting negli anni passati. È stata un'agenzia che mi ha permesso di seguire vari campionati da osservatore, sia giovanili che di prime squadre. Ho avuto l'opportunità di confrontarmi con allenatori, dirigenti, giocatori, responsabili, procuratori nel settore calcio. E confrontarmi anche con altri ragazzi che hanno fatto il mio stesso tipo di percorso da osservatore per avere diverse idee nei vari campionati che abbiamo seguito e confrontarli con i miei. Diciamo che oltre all'area Scouting ci sono anche allenatori, match analyst che collaborano con l'agenzia e abbiamo avuto l'opportunità di fare delle esperienze in giro per il mondo e crescere. Quindi diciamo che l'AdAlessandro Scouting è un'opportunità per varie persone per cercare di inserirsi nel mondo del calcio.